Mi vado a Roma per una serie di incontri già programmati da prima, ovviamente nell'agenda è diventato urgente anche il San Carlo, quindi starò anche al Ministero dei Beni Culturali. La mia esigenza è soprattutto quello di rappresentare in modo completo, dettagliato e corretto quello che è accaduto, perché poi si sono lette anche storie che non esistono in questi giorni e quindi è opportuno che il Ministro e la sua struttura sappiano perfettamente di quello che ci sta parlando, che sento parlare di commissariamento ma non c'è nessuna ragione perché il San Carlo venga commissariato e anzi ci sono tutte le ragioni perché il San Carlo venga sostenuto nella sua gestione ordinaria. Qual è la proposta del Comune per salvare il San Carlo? No, ma il San Carlo in realtà noi lo abbiamo salvato, lo abbiamo salvato innanzitutto il Comune di Napoli mettendo 40 milioni di Euro, che è una cosa che il San Carlo non ha mai avuto e siamo l'unico socio fondatore che l'ha fatto. La Regione ad esempio deve 13 milioni al San Carlo, gli altri hanno ritenuto di non ricapitalizzare, ma è una scelta legittima per carità, noi ci abbiamo messo 40 milioni di Euro con la scelta di ritenere che non c'erano le condizioni per aderire alla legge, abbiamo evitato che venissero compressi i salari dei lavoratori del 35%, abbiamo evitato che ci fosse la scura, il taglio, che venissero privilegiate le esternalizzazioni, quindi questa è una scelta molto forte che va verso la salvezza definitiva del San Carlo. La scelta di dimettersi crea delle difficoltà, perché attualmente il CDA non ha dei componenti, ma leggendo con attenzione norme e statuto non ci si può sfilare dal San Carlo, quindi io tra oggi e domani ovviamente in qualità di Presidente convocherò il CDA del San Carlo, nelle prossime ore nominerò il nuovo componente di provenienza comunale, sostituendo appunto, ha rimesso il mandato il Consigliere Patroni Griffi, quindi ci sono tutte le condizioni per andare avanti. Sono molto contento di vedere una straordinaria passione nelle lavoratrici e lavoratori del San Carlo, che sono uniti in questa battaglia, la battaglia è la loro, il Presidente della Fondazione San Carlo ha scelto di seguire loro in questa battaglia, perché è una battaglia giusta, giuridicamente corretta, molto forte perché salvaguardia l'autonomia del San Carlo, la dignità dei lavoratori e lavoratrici e non è una battaglia semplicemente salariale, che è già di per sé una battaglia nobile, perché se pensiamo un taglio del 35%, un lavoratore che pia 1.400 Euro al mese, che cosa ha a che vedere col valore e con la cultura tutto questo? Non si può fare un lavoro come quello di così grande impegno e forza con un taglio così significativo. Ovviamente io mi auguro che possano rientrare le dimissioni del Presidente Caldoro e degli altri, altrimenti, come dire, siccome sono dimissioni personali che vengano sostituiti con altri componenti. Chiudo dicendo, giuridicamente Caldoro e anche gli altri hanno sostenuto che a loro avviso c'erano le condizioni per aderire e allora io francamente non comprendo perché ti dimetti, dovevi fare in modo che in qualche modo si entrasse in quella legge, anche perché se immediatamente dopo le dimissioni si creano le condizioni per non ricostituire il CDA, vuol dire che la finalità evidentemente era quella di non consentire un proseguo ordinario delle attività del San Carlo. Quindi ci siamo trovati di fronte a due interpretazioni, entrambe giuridicamente sostenibili, alternative, ma questo non è la fine del mondo, bisogna andare avanti, il San Carlo deve vivere, ha le risorse che il Comune di Napoli ha dato, 40 milioni, il teatro è unito, vuole lavorare e ripartire nella sua autonomia e nella sua forza, quindi non paventiamolo nemmeno lontanamente il commissariamento perché questa è un'ipotesi che non si può prendere in considerazione nemmeno astrettamente. E si comincia da domani col barbiere di Siviglia? Si comincia dal barbiere di Siviglia e spero di rientrare in tempo da Roma, nel senso che c'è una serie di incontri al Ministero dei Beni Culturali, col sottosegretario Padroni Griffi e con altri, però farò di tutto per esserci perché il Presidente e il Sindaco di Napoli è vicino a questo teatro, è vicino alle lavoratrici e ai lavoratori che li ho visti anche ieri sera, compatti e uniti e sono l'orgoglio di questa città, quindi domani sera ci sarò per dirgli che noi non molleremo fino a quando il teatro non verrà messo totalmente in serenità e in sicurezza e stiamo cercando di far capire e ringrazio i mezzi di comunicazione che stanno riprendendo queste mie parole che questa non è una battaglia militaria o di minoranza o di poco conto, è né una lotta tra istituzioni come sta passando in questi giorni, sono opzioni culturali, strategiche e di dignità fondamentali, è una battaglia nazionale, forse addirittura internazionale per certi aspetti perché salvare un teatro, dare autonomia, dare forza ai propri lavoratori e alle lavoratrici significa far vivere un teatro come il Teatro San Carlo che è un teatro del 1737, la cultura non si può né spropriare né commissariare né mettere sotto tutela, si commissaria quando non ci sono le ragioni per andare avanti, quando il teatro non ha le condizioni economiche, non è questo il caso, quindi di fronte a questo bisogna continuare ad andare avanti, ne ho parlato anche col Presidente Caldoro Sabato, la divergenza rimane forte, ma le divergenze nella vita ci sono spesso, non è che una divergenza deve diventare rottura o qualcuno si deve sfilare e provocare uno stallo che può essere pericoloso.